Vedrai creature meravigliose, che non credevi possibili, ma è tutto vero. 12.000 esemplari ti aspettano all'Acquario di Genova, per capire com'è profondo il mare. Succede solo all'Acquario di Genova, di Cattolica, di Livorno, di Cala Gonone. Quattro meravigliose esperienze Acquario Village. Succede solo all'Acquario di Genova, di Livorno, di Livorno, di Livorno, di Livorno, di Livorno.